Musica Benvenuti in compagnia della nuova edizione del telegiornale di Telecattolica. Nella Chiesa di Cristo Re si è tenuta la veglia di preghiera per la festa della pace 2019 dell'azione cattolica diocesana. Il servizio. La festa della pace promossa dall'azione cattolica della diocesi lucera Troia che si celebra a gennaio è cominciata sabato sera con la veglia di preghiera pace a questa casa che si è tenuta presso la parrocchia Cristo Re di Lucera dove tutti i gruppi di azione cattolica si sono ritrovati per riunirsi in preghiera e invocare la pace. A presiedere la veglia Don Pio Zuppa assistente unitario di azione cattolica affiancato da Don Alessandro Clemente e Don Rocco Coppolella. Don Pio nelle sue riflessioni ha sottolineato che la pace deve essere vissuta a partire dalla propria casa e in tutti i luoghi di vita dai posti in cui vivono i sofferenti a dove si fa politica, da dove si pratica il volontariato alla pace con il creato, dono di Dio. In questi contesti la pace è fondamentale. Don Pio Zuppa ha evidenziato tre aspetti emersi dal momento di preghiera, quotidianità, i legami di tutti i giorni e la profondità. La pace deve essere il cuore della cristianità perché la pace è nel cuore stesso di Dio. L'impegno dei cristiani e dell'azione cattolica è portare e praticare la pace nella vita di tutti i giorni. Ha concluso Don Pio Zuppa. E nella giornata di domenica la festa della pace dell'azione cattolica della Diocesi Lucera-Troia ha visto due momenti, la Santa Messa e la Marcia della Pace. Vediamo le immagini. Domenica 27 gennaio la festa della pace dell'azione cattolica della Diocesi Lucera-Troia è stata scandita da due momenti, la Santa Messa in cattedrale a Lucera e poi la Marcia della Pace. L'iniziativa di pace di quest'anno, con lo slogan La pace è servita, invita a guardare alla realtà che ci circonda e a quella mondiale con l'occhio di chi si fa attento ai bisogni. Prima della Messa ogni gruppo ACR della Diocesi ha allestito una tavola imbandita. Iniziata la celebrazione presieduta da Don Antonio Moreno, il presidente diocesano di azione cattolica, Patrizia Salandra, ha rivolto il saluto ai partecipanti allo stesso Don Antonio, che ha terminato il suo servizio di assistente diocesano di ACR durato due anni, dando il benvenuto a Don Ivan Clemente, che è stato nominato dal vescovo Giuliano, nuovo assistente diocesano ACR. Durante la celebrazione, sorpresa per tutti, è stato l'arrivo e il saluto del vescovo di Melfi, Monsignor Ciro Fanelli. Il prelato lucerino è stato per diversi anni assistente diocesano dell'azione cattolica, prima all'ACR, poi al settore adulti e infine come assistente unitario. Al termine della Messa tutti i ragazzi e gli adulti dell'azione cattolica diocesana si sono messi in cammino verso la Villa Comunale per la Marcia della Pace. Il progetto di solidarietà legato all'iniziativa del 2019 si concretizza inoltre attraverso il sostegno alla campagna Abbiamo Riso per una cosa seria, promossa dal FOXIV, a sostegno di iniziative che promuovono l'agricoltura familiare, un atto concreto di vicinanza ai contadini del nord e del sud del mondo contro lo sfruttamento del lavoro e del territorio. Restiamo ancora in diocesi perché venerdì 1 febbraio si darà il via al secondo ciclo di appuntamenti della Scuola delle Cattedrali, intitolata al Beato Agostino Casotti, Vescovo di Lucera durante il XIV secolo. Un'istituzione, quella della Scuola delle Cattedrali, esistente da circa un anno in diocesi, inaugurata nell'aprile 2018 con un primo ciclo di appuntamenti. Il nuovo ciclo di conferenze della Scuola, diretta dal Vicario Generale Don Donato D'Amico, approfondirà il messaggio del Santo Padre Francesco per la 52esima Giornata Mondiale della Pace dal titolo La Buona Politica e al Servizio della Pace e vedrà la presenza del senatore Costantino Dell'Osso, politico e già senatore della Repubblica Italiana, venerdì 1 febbraio, del professor Don Rocco D'Ambrosio, ordinario di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, giovedì 7 febbraio, e del dottor Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUIS di Roma, giovedì 28 febbraio. Gli appuntamenti si terranno presso il Circo L'Unione di Piazza Duomo a Lucera alle ore 19. A Manfredonia ha fatto il suo ingresso il nuovo vescovo della diocesi, Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, Monsignor Franco Moscone, particolari nel servizio. È arrivato in auto con i familiari più stretti, prima fermata per il nuovo arcivescovo di Manfredonia, a Vieste, San Giovanni Rotondo, Monsignor Franco Moscone, l'antica basilica di Siponto, dove da accoglierlo c'erano il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, e l'amministratore apostolico Monsignor Luigi Renna. Un breve momento di preghiera dinanzi all'immagine della Madonna, la visita alla cripta e al parco archeologico di Siponto. Qui la prima dichiarazione ai nostri microfoni. Grazie del benvenuto, il passo è per me di sicuro grande. Ecco, spero nell'accompagnamento dei tanti fratelli e sorelle di questa chiesa, incominciando dai confratelli nel sacerdozio e nella vita religiosa, in tutto il grande mondo laicale. È una terra di santi e quindi mi aiuterà a santificarmi come prima cosa. Papa Francesco lo ha mandato nel Gargano per essere uomo di preghiera e pastore vicino alla gente, proprio come padre Pio. Io desidero allora essere fedele a questo mandato, insomma, di stare con la gente che da oggi devo sentire mia, non la sentivo così fino a qualche mese fa, ma da oggi sì, e di stare come prete, come vescovo e quindi dando testimonianza innanzitutto di preghiera e di vicinanza. In auto fino in Piazza Marconi per proseguire il suo ingresso a piedi fino al municipio, dove ha ricevuto il saluto dei sindaci dell'Arcidiocesi Garganica e delle autorità civili e militari, dai somaschi alla terra del Gargano. Il passo è davvero lungo. Senza dubbio ha un'esposizione mondiale. Verso di noi, verso San Giovanni Rotondo, verso Monte Sant'Angelo, guardano un po' da tutto il mondo. E questo credo sia bello e stimolante, non solo per il Vescovo, ma deve esserlo per tutta la Chiesa di questa Arcidiocesi e per tutti i fedeli, insomma, e anche per chi collabora in altro modo, per la società civile. Comunque è un patrimonio comune per tutti e un dono non solo alla Chiesa, ma alla società di qua. Il primo atto? Non lo so, il primo atto è di dire messa e di celebrare l'Eucaristia, è quella di dire grazie e di confidare in questo cammino nuovo che il Papa mi ha chiesto di fare, incominciandolo proprio qui, con voi, insieme a voi e per voi. Gargano, terra di santi, ma anche di degrado sociale e di criminalità. Padre Franco Moscone risponde così. Non mi sono fatto un'idea, me lo hanno detto, me lo aspetto, credo che sia così, ma non devono essere le difficoltà a interrompere il cammino, perché se ci fermiamo non si combatte di sicuro il male, insomma, se è la terra dell'Arcangelo San Michele, è la terra della vittoria sul male, non del male che vince sul bene o sulla società. Quindi in cattedrale, dove alla presenza del clero e delle autorità, ha partecipato al rito di insediamento con la lettura della bolla pontificia di nomina ad arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Infine, la celebrazione liturgica in piazza, dove nonostante il freddo pungente c'era tantissima gente. Inizia il ministero pastorale di Monsignor Moscone, o come preferisce lui, di padre Franco Moscone. Che mi si continui a chiamare come ero abituato, e quindi chiedo che continuino a chiamarmi padre, sapendo che è già una parola difficile, e che già Gesù dice di non usarla troppo, insomma, immaginarsi le altre. Voltiamo pagina. Messo appunto dal Dipartimento Nefro Urologico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, Ospedali Riuniti di Foggia, è stato sviluppato il primo calcolatore italiano online in grado di stabilire il rischio relativamente ad un paziente maschio e adulto di contrarre il carcinoma della prostata. Il calcolatore sviluppato dall'Università di Foggia e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, se venisse ufficialmente riconosciuto, affiancherebbe gli altri due calcolatori online comunemente utilizzati dall'Università del Texas e dall'Università di Rotterdam, Olanda. La novità del calcolatore foggiano è rappresentata dall'introduzione tra i parametri di calcolo del residuo post-minzione comunemente misurato durante la visita urologica. A presentare il dispositivo il professor Luigi Cormio e il professor Luigi Carrieri del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia. La compagnia teatrale Enarchè di Foggia ha presentato uno spettacolo sul ritrovamento del Sacro Tavolo della Madonna dei Sette Veli che ha riscosso notevole successo in numerose date del mese di gennaio. Vediamo le immagini. La compagnia teatrale Enarchè in sette date nel mese di gennaio ha portato in scena con successo al Teatro Reggio di Capitanata Nuquadra Antique per la diciottesima stagione teatrale. Lo spettacolo in dialetto foggiano in due atti ha testo e regia curati da Fabrizio Enrico. Il cast di attori è composto dallo stesso Fabrizio Enrico Giovanni Mancini Michele Norillo Maristella Mazza Simona Ianigro Roberta Mancini Consiglia Albanese e Giosi Rosiello. L'opera è la rappresentazione storiografica di Foggia attraverso il ritrovamento del Sacro Tavolo della Madonna dei Sette Veli che ha dato origine all'identità religiosa e culturale foggiana. Momenti esilaranti ma anche dal senso profondamente religioso caratterizzano il racconto che diverte e nello stesso tempo affascina con la danza e il canto riportando alla luce la storia e le radici del popolo foggiano che rimandano alla devozione alla Madonna dei Sette Veli. Ogni anno il 27 gennaio ricorre il giorno della memoria per ricordare le vittime della show up e che quest'anno la data è caduta di domenica per poter coinvolgere anche gli studenti il comune di Foggia assessorato alla pubblica istruzione ha posticipato la celebrazione a martedì 29 gennaio presso il teatro Umberto Giordano a partire dalle 10.30 con un evento intitolato nonostante tutto performance attoriale musicale dedicata alle scuole medie di Foggia e curata dalla compagnia luce in scena di Foggia. sul palco gli attori Stefania Benincaso Emanuele Pacca la pianista Simona Aprile e la violinista Francesca Scarano seguiranno le relazioni storiche e giuridiche di docenti dell'Università di Foggia in particolare il professor Stefano Picciaredda e del professor Gianpaolo Maria Ruotolo Arriviamo al calcio lo sport lucera passa anche a Bari contro l'ideale Bari ha vinto 2 a 1 portandosi a 23 punti in classifica vediamo il servizio lo sport lucera colleziona un'altra vittoria per la diciottesima giornata di campionato di prima categoria girone A lo fa in un campo difficile come quello di Bari palese contro l'ideale Bari superato 2 a 1 il primo gol è di marca bianco celeste grazie a Pipoli che all'undicesimo minuto porta il risultato sull'1 a 0 l'ideale Bari reagisce su punizione trova la rete del pareggio al 32esimo del preciso Papeo la prima frazione si chiude 1 a 1 nella ripresa prova di carattere della squadra lucerina nonostante la partita si sia presentata difficile i ragazzi di mister Alfredo Bertozzi hanno saputo mantenere le redini del gioco trovando il gol al 78esimo grazie a Rizzi lo sport lucera in sei partite giocate ha messo insieme 16 punti che hanno permesso una risalita tale da raggiungere il settimo posto un risultato sorprendente ottenuto grazie ad un gruppo all'altezza della categoria e un allenatore capace di valorizzare le risorse a disposizione la tifoseria applaude augurandosi che questa scia positiva prosegua chiudiamo con un appuntamento che riguarda sempre il giorno della memoria l'amministrazione comunale di Foggio attraverso l'assessorato alla pubblica istruzione ha organizzato al teatro Giordano lo spettacolo intitolato Memento un racconto animato scritto e interpretato da Daniela Delia per raccontare alle bambini e ai bambini delle scuole primarie e del capoluogo cosa fu la Shoah protagonista della novella la dottora Fantasia il personaggio a cui i bambini sono molto affezionati dopo le rappresentazioni già andate in scena lo scorso anno la dottora Fantasia racconterà le origini della guerra e la storia d'Italia di quel periodo con brevi cenni sull'attualità bene con questo è tutto vi ringraziamo per averci seguito vi lasciamo al meteo arrivederci alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti